Musica Io penso che il Job Act non serva oggi all'Italia così com'è, perché non prevede risorse sufficienti per mantenere, per innalzare, per implementare i livelli di occupazione. Il lavoro non si inventa facendo la battaglia sui simboli come l'articolo 18, il lavoro si promuove mettendoci soldi, mettendoci risorse, facendo un piano di investimento. Musica Noi veniamo da Siracusa e abbiamo sfidato l'uracano per venire da tanto lontano. Ne valeva la pena? Ne valeva la pena perché non si può restare indifferenti davanti a una situazione ormai insostenibile. Con i nostri stipendi non ci bastano neanche a pagare le tasse. Musica 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 Grazie a tutti.